Il Presidente del Consiglio ha intervenuto oggi dopo le parole del Presidente Mattarella. L'Europa ha detto Conte eviti errori tragici sia all'altezza dell'emergenza, dimostri la sua ragion d'essere, servono bonde europei per ricostruire l'economia. Ovviamente fa riferimento al fatto che l'Europa sta appunto prendendo tempo nel prendere una decisione comune che possa risollevare economicamente i paesi coinvolti dal virus. L'inerzia, dice il Presidente del Consiglio, consegnerebbe ai nostri figli il costo immenso di un'economia devastata. Allora vediamo cosa succede in Europa. Oggi c'è stato l'appoggio della Francia all'Italia, si è quasi spaccato l'asse franco-tedesco. Francia a fianco dell'Italia, il servizio del corrispondente Alberto Romagnoli. Se l'Europa può morire, è nel non agire, ammonisce Macron in un'intervista ai quotidiani italiani. Come Giuseppe Conte, non voglio un'Europa del minimo comune denominatore, spiega il Presidente francese che racconta qualche retroscena del Consiglio europeo attraverso videoconferenza di giovedì sera. Dieci paesi dell'eurozona, rappresentanti il 60% del suo prodotto interno lordo, hanno esplicitamente sostenuto la necessità di un indebitamento comune oppure di un aumento del bilancio UE per sostenere concretamente chi è colpito dal virus. Alcune nazioni, tra cui la Germania, hanno espresso le loro reticenze, ma non supereremo questa crisi, è il messaggio dell'Eliseo, senza una solidarietà europea forte a livello sanitario e di bilancio. Una visione condivisa da gentiloni. Lasciare le azioni di rilancio solo agli Stati rafforzerà le divergenze delle loro situazioni economiche, dice il Commissario europeo Alessuar. E questo potrebbe mettere a rischio la stabilità della nostra unione, il nostro modello sociale, che verrà messo in discussione, convinto Gentiloni, da forme di capitalismo autoritario, che verranno presentate come più efficaci. Ecco perché, a suo giudizio, il piano Marshall dovrà essere coordinato fra le varie capitali e concentrato su sanità, protezione dei posti di lavoro e industria. E allora, di nuovo da Roberto Kinzeri. Roberto, ci saranno dei riferimenti anche alle misure di contenimento? Allora, possibile e ricordiamo giustamente il discorso verso l'Europa anche dello stesso Presidente del Consiglio, questa richiesta di solidarietà. e come... Grazie. 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 Grazie.